What's up a tutti ciurma e benvenuti raggioglieri in questo brevissimo video ebbene ragazzi come avevo anticipato ad alcuni di voi durante la live di venerdì sera sto appunto per tornare in Italia ovviamente non si tratta di un ritorno definitivo bensì di una permanenza temporanea infatti ragazzi partirò dopo domani cioè sarebbe a dire il 28 febbraio e poi tornerò qui a Valencia il 13 marzo per cui si tratta poco più di 10 giorni in più o meno e come sempre ragazzi ci tengo a farvelo sapere perché non voglio sparire tra virgolette dal canale senza dare alcuna motivazione visto che comunque ultimamente sono stata abbastanza presente qui su YouTube nel senso che ho pubblicato anche quasi tutti i giorni quindi visto che la mia frequenza di pubblicazione è abbastanza buona una sparizione così da un momento all'altro non avrebbe senso anche perché comunque so che ci sono alcuni di voi che seguono con molto piacere le mie serie e quindi ci tengo a farvi sapere il motivo per cui magari durante questo breve periodo non pubblicherò niente ci avrei veramente tenuto tantissimo ragazzi a magari prepararmi dei video magari non da pubblicare tutti i giorni però da pubblicare un video ogni tanto però veramente non ho avuto il tempo materiale per registrare ed editare anche altri video oltre a quelli che già vi ho portato in quest'ultimo periodo quindi per questo vi chiedo veramente scusa ragazzi perché comunque quindi per una decina di giorni il canale sarà quasi totalmente morto e dico quasi perché comunque per fortuna ragazzi a casa mia in Italia hanno rimesso il wifi perché l'ultima volta che sono stata non ce l'avevano l'avevano tolto però per fortuna hanno rimesso internet quindi comunque in casa dovrei avere a disposizione la connessione internet e quindi dicevo quasi perché magari con il telefono o comunque con un computer a disposizione che lì ovviamente hanno potrebbe anche capitare che mi metta in live magari non per tanto tempo però che ne so una mezz'oretta o un'oretta per comunque parlare sempre un pochettino con voi e non sparire del tutto quindi questo sì ragazzi aspettatevelo probabilmente live su youtube, live su instagram molto probabilmente quindi mi raccomando seguitemi sempre su tutti i social perché è lì che ovviamente do aggiornamenti seguitemi su instagram, telegram ragazzi mi raccomando e comunque stay tuned anche qua su youtube perché appunto potrebbe capitare magari ogni tanto se dovessi avere del tempo libero a disposizione che mi metterò in live per parlare un pochettino con voi quindi per non tagliare completamente i punti spero che comunque ragazzi attenderete con non dico ansia però con un pochettino di voglia le serie una volta che sarò tornata qua a Valencia perché mi rendo conto ragazzi che già magari serie che sono seguite non dico poco però non sono tanto seguite dopo un periodo di assenza anche di così pochi giorni magari può passare la voglia comunque di seguirle e spero che questo non capiterà ragazzi perché già per esempio Finding Paradise è seguito pochissimo e non voglio che la serie muoia del tutto ma non perché voglio fare più da tutti i costi anzi io continuerò a pubblicare ragazzi sempre e comunque nonostante tutto ma perché per esempio so che Finding Paradise è una serie che merita essere eseguita per cui ragazzi vi prego di non dimenticarvi delle mie serie di non dimenticarvi di me comunque ci aggiorniamo ci sentiamo sempre sui social ragazzi ovviamente ragazzi oggi e domani non pubblicherò niente perché comunque sono un po' incasinata ho un lavoro da finire e i preparativi insomma per la partenza veramente non mi dà tempo per fare niente quindi ne approfitto per salutarvi adesso per mandarvi un bacione e un abbraccione immensi e comunque vi ripeto ci aggiorniamo sui social ragazzi quindi non dimenticatevi di me vi voglio un mondo di bene vi mando un bacione e obdosh a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link nei miei social i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice grazie a tutti i miei sociali